Un'iniziativa sotto l'albero di Natale, un'iniziativa che da tre anni si ripete sotto questo albero di Natale ed ogni anno i problemi aumentano, i problemi aumentano per tante ragioni. Prima fra tutti, quello che è più di attualità e che ci rende tutti consapevoli è quello della crisi economica. Una crisi economica che colpisce le fasce sociali più deboli, le famiglie a monoreddito, che colpisce le giovani precarie, che colpisce gli studenti e le studentesse. Ebbene, quest'anno sotto questo albero di Natale non siamo qui a piangere, ma siamo qui a rilanciare un'idea perché siamo ancora convinti che le idee possano cambiare il mondo. L'idea di quest'anno è costituita da tre parole. Yes, we cash. Yes, we cash è una campagna nata all'interno della regione Emilia-Romagna. Una campagna che ha avuto il suo inizio il 24 novembre del 2009. Con un'azione simbolica dentro il Consiglio regionale. Un'azione simbolica per chiedere al Consiglio regionale di assumere questa proposta per una legge, per un reddito minimo garantito. Il reddito minimo garantito è una forma di giustizia sociale, di ridistribuzione della ricchezza e dei profitti. Di quei profitti che oggi più che mai sono la base della crisi economica. Una crisi economica voluta dai potenti e che ancora una volta sono le classi sociali più deboli a pagare. Questa crisi economica si intreccia ora più che mai e necessita di un'azione da parte di tutti. E' per questo che la campagna Yes, we cash vuole essere una campagna da socializzare, una campagna da promuovere, una campagna che concretamente... Grazie. Grazie. Grazie.